Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare velocemente l'incarico in arrivo questa settimana che richiede di esaminare barra cercare forzieri. Diciamo il luogo migliore, secondo me, per fare questo incarico è praticamente qui, dove c'è il Cinema Drive-In, qui vicino Cascina Colossale, qua praticamente, non potete sbagliarvi. Andate qui e ci sono tutti i forzieri che vi servono. Adesso vi mostro la posizione di tutti i forzieri, ma naturalmente non avete bisogno di tutti i forzieri, ma solo del numero richiesto. Uno lo trovate qui, poi scendete giù qua. Ovviamente la comparsa dei forzieri può cambiare, ma solitamente è questa. Due, poi andate qua, rompete questo fogliame e ne trovate un altro, qui ecco. Stiamo a tre, poi qui ne trovate un altro, quattro, andate di qua. Rompete il bancone, qui, cinque, girate, andate qua a sei, come vedete ce ne sono davvero tanti. Poi andate di qua, vedete lì ce n'è un altro. Eccolo qua. Poi qui ne trovate due. Uno qui. L'altro qui. Ancora non è finita. Come vedete ce ne sono davvero tanti, anzi qui ce n'è un altro in fondo, vedete? Questo è per me il luogo migliore per luttare, per aprire forzieri, scatole di munizioni e procurarsi il necessario per fare una strage. Quindi andate qui, tenete presente che anche il frigorifero è valido per la sfida. Quindi qua. Poi girate. Ovviamente se giocate da tempo questo posto già lo conoscete. Qui sopra ce ne sono altri due. Non è ancora finita. Uno è qui. E l'altro è qui. Quindi rompete qua. Come vedete ce n'è uno proprio qui su. E se tutto ciò non vi basta, in fondo lì, come vedete, ce ne sono altri e tre. Quindi se dovete fare l'incarico giornaliero o settimanale o volete completare la scheda punti che vi richiede di aprire forzieri, questo è il posto migliore. Cioè, come vedete ce ne sono una decina. Quindi se ripetete magari sempre questa parte potete completare velocemente gli incarichi. Come vedete, ecco qua. Questi sono tutti i forzieri di cui avete bisogno. Ognio.